Allora, eccoci! Salve a tutti! In questo caso parliamo di grammatica, o meglio di sintassi della preposizione, che altro non è che quella che voi chiamate analisi logica e che appunto include solitamente, questo ancora una volta è libro di testo che uso io, è club, si chiama riguardo di logica, così vi faccio vedere tutto quello che uso, gli strumenti che uso in classe. Quindi si parte dalla preposizione, dalla frase, dal riconoscere la frase semplice, dagli elementi fondamentali che sono il soggetto e il predicato. Il predicato è il verbo, senza il verbo non c'è niente, non c'è azione, non riusciamo a capire assolutamente niente della frase, poi lo vedremo, e poi ci sono tutte le altre espansioni, attributi, apposizioni e complementi, che sono quelli che fanno tanto, come dire, ammattire, complemento oggetto, complemento da gente, eccetera. Quindi questo è l'insieme di quella che voi chiamate analisi logica, ma che si chiama sintassi della preposizione. Mi sono resa conto che pur utilizzando le mappe, molti ragazzi si trovano in estrema difficoltà di riuscire ad utilizzarle, soprattutto quando sono strutturate, diciamo, ramificate. Quindi voglio farvi vedere una cosa molto semplice che viene d'aiuto di Slessia e che può essere utilissima per tutti, che appunto innanzitutto questa è in versione verticale, perché va da su, dall'alto al basso, insomma, e secondo me è molto più funzionale. E poi vedremo, ci sono altre mappe, come queste, che invece appunto si snodano in maniera orizzontale, che a volte danno maggiori problemi, ma le analizzeremo con calma. Partiamo dal principio. Per poter cominciare con l'analisi logica, appunto, dobbiamo capire che cos'è la frase minima. Solitamente all'elementare si fa questo, cioè la frase minima è la più breve frase che abbia un senso compiuto, cioè ci devono essere degli elementi nella frase che ti facciano capire che cosa io stia dicendo. Quindi, solitamente una frase minima è composta da soggetto, cioè chi sta compiendo o chi subisce l'azione. Mangio la mela, è facile, no? Io mangio, vedete che se tolgo il verbo non ha più senso. La mela è già un'espansione. Semplicemente io posso dire io mangio e già vi immaginate una persona che mangia. In questo caso vi immaginate me, la mia facciona con i capelli ricci, che sta mangiando. Per cercarlo nella frase, e questo è fondamentale, ve lo dovete stampare a carattere cubitale, vi dovete chiedere rispetto al verbo, chi, che cosa sta facendo o subendo l'azione? Lia, urla. Prendete questo verbo e chiedetevi chi sta urlando? La risposta Lia. Bene, quello che risponde alla domanda chi è il soggetto, che si accorda sempre con il verbo. Se avete un verbo al plurale, il soggetto non potrà mai essere singolare. La mela è stata mangiata. In questo caso lo subisce. Chi è stata mangiata? Mica Giorgia. La mela è stata mangiata. E quindi questo è il soggetto, cioè colui che compio subisce l'azione. Cosa può essere? Beh, può essere una persona, Lia, io, Andrea. Può essere un animale, il cane, il gatto, l'orso. Vedete? Può essere una cosa, la tazza, il palazzo, il teatro, la macchina. Un pronome, qualcuno, di qualsiasi genere. In questo caso ne abbiamo uno indefinito qualcuno. Voi. Guardate. Bussò. Facciamo una domanda al verbo. Chi bussò? Risposta. Qualcuno. Ho trovato il mio soggetto. Mi dite. Chi si sta parlando? Chi dice? Voi. Voi è il soggetto. Può essere espresso, vuol dire che lo trovate io, tu, Lia, la mela, Laura, l'orso, la tazza. O può essere in italiano sottointeso. Mangio. Ma voi lo sapete che è io mangio. Non è scritto, non lo sto pronunciando, ma c'è. Poi, quindi, soggetto. Una frase minima deve essere composta da un predicato. Il predicato è colui che predica, che chiacchiera. Ci fornisce informazioni sul soggetto. Il predicato è il fondamento della frase, è il pilastro. Voi togliete il predicato e la frase non esiste più. Per cercarlo nella frase bisogna domandarsi. Cosa fa? Com'è? Lia urla questo. Avete capito che è il predicato. Cioè, avete capito che è il verbo. E credo che a questo punto tutti sappiamo riconoscere un verbo. È quello che ci dice chi sta facendo cosa. Se io tolgo il verbo e lascio solo il soggetto e lascio solo Lia, cosa mi rimane? Io vi guardo e vi dico Lia e voi mi dite cosa Lia. Giusto? Ah, appunto. Cosa fa? Chi è Lia? Ecco che vuol dire che vi manca il predicato. Cioè vi manca il verbo. Lia urla. Giorgia è triste. È fondamentale. Ora, volevo farvi vedere una cosa ma non c'è. Va bene? Ve la dico. A proposito del soggetto. Ci sono alcuni verbi che non hanno bisogno nemmeno di questo soggetto. Per una frase minima. E sono i verbi che indicano le condizioni meteorologiche. Infatti diciamo piove, nevica, tuona oppure alveggia. Non ne hanno bisogno perché sono dei verbi che fondamentalmente non hanno un soggetto e quindi compongono già una frase minima. Ma tolti quelli tutti gli altri hanno bisogno almeno di un soggetto che sia sottointeso o che sia espresso non è importante ma ci deve essere e di un predicato quindi di un verbo. I predicati, cioè i verbi, possono essere di due tipologie. Sono verbali, cioè che ci dice che azioni fa il soggetto della frase che è composto da un verbo che può compiere o subire, può essere attivo o passivo e per cercarlo nella frase dobbiamo domandarci cosa fa il soggetto, che sta facendo? Ed ecco che allora scopriremo che canta, viene colpito, è mangiato, salta, gioca, ci dice e quindi ci dà tutta una serie di informazioni fondamentali alla frase. Predicato verbale, predicato nominale, questo è, ci dice chi o che cosa è e com'è e per cercarlo nella frase ancora una volta dobbiamo dire che cosa è o cosa fa solamente che vedete è composto dal verbo essere. dal verbo essere inteso come più dopo cosa c'è un aggettivo, c'è un nome e in questo caso lo chiamiamo predicato nominale, sempre verbo è solamente che è composto da un verbo essere e accanto c'è un aggettivo bello, brutto, alto, basso, grigio, rosso, nero, sono tutti aggettivi o accanto può avere un nome, pensate, pasticcere, studente, sono tutti nomi quindi in questo caso sono riferiti al soggetto ovviamente, angelo è un pasticcere è un pasticcere tutto insieme, prendetelo tutto insieme, si chiama predicato nominale la parte che si attacca al predicato nominale si chiama appunto nome del predicato questo sarebbe predicato nominale, questo sarebbe nome del predicato io normalmente faccio scrivere il predicato nominale, faccio mettere un po' tutto insieme ma intanto semplifico il soggetto e il predicato concordano numero, genere, persona se io dico che tu sei cattivo sto parlando di un ragazzo singolare maschile se io voglio dire gli alunni sono cattivi gli alunni è plurale maschile e quindi diventerà cattivi se io voglio dire che angelo e giuseppe sono pasticceri siccome sono due maschi userò il maschile plurale se io invece dico angela e rosa sono pasticcere perché sono due femminucce quindi la frase minima è composta da soggetto e predicato e il predicato a sua volta è verbale o nominale voglio farvi vedere come si vede sul libro di grammatica nella versione semplificata frase semplice è un insieme di parole che ha un ordine ben preciso ha senso compiuto quindi non posso dire cose che non hanno senso contiene solo un verbo solo un verbo da due verbi siamo già passati alla proposizione quindi siamo già a una cosa diversa e termina con un segno di punteggiatura forte cosa vuol dire? vuol dire che la frase semplice la proposizione o frase semplice termina quando io mi trovo davanti un punto punto esclamativo e punto interrogativo e dopo di questi io voglio la maiuscola sto cominciando un'altra frase ho concluso il discorso precedente e ne comincio un altro quindi così funziona se ho un insieme di parole ben precise se hanno senso compiuto se vediamo che contiene un solo verbo teoricamente dovrebbe contenere anche un soggetto se non è un verbo appunto che indica meteorologia e se abbiamo un bel segno di interpunzione forte quella è una frase minima è chiaro che se ha più verbi se troviamo più di un predicato già stiamo parlando di una cosa che non è una frase minima quindi questi sono i requisiti che deve avere una frase minima e deve essere composta soggetto predicato e poi vedremo tutto quello che appartiene al soggetto e tutto quello che appartiene al predicato la frase minima è formata da soggetto più predicato e deve avere un significato mangio miagola il gatto miagola faccio per dire un esempio oppure vedete la differenza una frase più estesa più lunga è formata dal gruppo soggetto dal gruppo predicato c'è insomma c'è un avverbio è sicuramente più complessa quando parliamo di frase minima di solare la frase minima intendiamo cercare il soggetto e il predicato questo ci interessa si parte dalla frase minima sempre e qui per esempio ci sono dei piccoli esercizi in cui scoppia un temporale in questo caso abbiamo scoppiò il verbo e ci dice chi che cosa un temporale è diverso invece dalle frasi estese in questo esercizio vi dice di espandere di allargare l'altro giorno è arrivata chi una bolletta del telefono da 100 euro vedete che la frase più complicata è di espansa se io cerco una frase minima cercherò una frase composta solo da soggetto più predicato che appunto nel caso specifico per esempio qui era il gatto miagola soggetto chi sta compiendo l'azione e miagola che è il il predicato o verbo e in questo caso spesso mi avvalgo appunto di strutture per semplificare appunto per cercare di semplificare di far fare materialmente di far costruire una frase minima e di spiegare appunto chi è il soggetto chi è il predicato di comprendere facendo agendo qual è la frase minima ora dicevo invece qui abbiamo vedete queste che sono quelle orizzontali quelle orizzontali sono un pochino più complicate a volte possono essere un pochino più complicate perché sono ramificate sono un pochino più difficili da leggere quindi tendenzialmente io nelle frasi nelle frasi nelle nelle mappe concettuali preferisco questa versione a scorrimento orizzontale che secondo me è un pochino più pratica da leggere ho invece una mappa in versione orizzontale che secondo me è un pochino più complicata tra virgolette nel senso che da dove comincio comincio da qui uno dei due elementi fondamentali della frase minima è il predicato cioè il verbo cosa indica vado giù guardate la freccia seguo ciò che si dice del soggetto quello che di esso predica quindi io la faccio ripeto la faccio semplice perché secondo me è bellissimo predicato ma al fine è verbo poi lo dividerò in predicato verbale predicato nominale ma sempre di verbo si tratta di riconoscere il verbo nella frase come terza cosa terza fase come può essere il predicato può essere una voce verbale quindi un verbo e io chiamo predicato verbale e indica ciò che fa il soggetto quindi il bambino corre o ciò che subisce il soggetto quando il verbo è passivo si presuppone che sappiate cos'è un verbo attivo e un verbo passivo il bambino è sgridato cioè la subisce l'azione cioè qualcuno lo sta sgridando forma attiva forma passiva ve lo spiega torniamo di nuovo indietro il predicato può essere e ci siamo ci dobbiamo studiare tutta questa altra parte verbo essere che viene chiamato copola più una parte nominale in questo caso lo chiameremo predicato nominale guardiamo gli esempi indica com'è il soggetto o chi è il soggetto com'è il soggetto il bambino è agitato questo è un aggettivo guardate che concorda nel numero e nel genere maschile singolare è agitato se fosse a femminile sarebbe la bambina è agitata tutto a femminile oppure abbiamo detto che indica chi è il soggetto il bambino è un alunno vi ricordate Andrea è un pasticcere oppure la bambina è un alunno anche in questo caso il nome che si accompagna alla copola si accorda nel genere e nel numero singolare maschile o singolare femminile quindi verbo essere più aggettivo abbiamo detto agitato potrebbe essere bello potrebbe essere alto potrebbe essere stonato potrebbe essere dotato potrebbe essere tanti aggettivi oppure può essere un nome è un alunno prima abbiamo visto è un pasticcere è un cantante quindi ci sono tanti nomi che si possono accompagnare